Ho ascoltato le motivazioni dei medici, quello che c'era che non andava, abbiamo chiarito, c'erano delle frizioni da ambo le parti, le abbiamo chiarite e spero che nel prossimo futuro non accade più, da parte dei medici c'è tutta la buona volontà a recuperare un rapporto nell'interesse del cittadino, quindi penso che tutti abbiano ora un animo più sereno. Il mio è stato un ragionamento rivolto a tutti, sia ai colleghi e a tutti gli attori di questo sistema sanitario del San Carlo, quindi era rivolto a tutti gli attori, ai medici e al direttore generale. Assessore, i medici del San Carlo lamentavano un poco confronto con il direttore, soprattutto nelle decisioni e nelle scelte, il suo contributo ha portato ad un dialogo più ampio? E' chiaro che c'è stato un dialogo, certamente più ampio ci sarà nel futuro un dialogo più ampio, le decisioni saranno assolutamente condivise e guardate, le decisioni non riguardano la scelta del direttore sanitario e del direttore amministrativo, niente c'entrano con le frizioni che c'erano. E' verso qualcosa relativamente all'interruzione dell'intramenia? Ma l'interruzione dell'intramenia, non ne abbiamo parlato di questa, abbiamo parlato di rapporti, di organizzazione dei servizi e come fare per ridare al San Carlo quell'identità iniziale che era essere un punto di eccellenza. Non c'è nessun ammutinamento a mio parere, ma la voglia da parte di tutti gli operatori del San Carlo, perché magari ci hanno messo la faccia con i direttori di dipartimento, ma tutti hanno voglia che la sanità in Basilicata funzioni, voglia di collaborare, non c'è nessuna strumentalizzazione politica, non c'è nessun intento di lucanità, parla uno che non è lucano e da questa regione è stato adottato ed ha avuto tantissimo, per cui il nostro obiettivo è quello di far funzionare l'ospedale San Carlo, collaborando con la direzione strategica, con l'assessorato, perché noi non abbiamo alcun interesse a distruggere, ma anzi a costruire. Poi c'è anche l'aspetto molto negativo del fatto che nel piano di riordino abbiamo subito gravemente una riorganizzazione che non ha tenuto conto delle esigenze, mi riferisco soprattutto alla carenza di personale, perché tutto quello che sta succedendo è legato fortemente alla mancanza del personale e quindi l'ospedale San Carlo sta diventando troppo il centro di tutta la sanità, anche quella che non ci tocca, quella territoriale, di cui dovrebbe essere fotore il territorio e noi ci stiamo facendo carico anche di questo. Se ci si fa carico di questo non ci si può fare anche l'eccellenza. Nelle sede opportune, che sarà il collegio di direzione, noi discuteremo punto per punto quelli che sono gli aspetti che riteniamo da correggere, da riprendere la mira, con l'aiuto anche dall'assessorato, perché la strategia deve essere data dalla regione, dalla politica regionale, per capire cosa è il nostro futuro, se è un ospedale territoriale oppure una azienda ospedaliera che si può occupare dell'emergenza e urgenza come idea di secondo livello e dell'eccellenza. Questi sono i nostri obiettivi. Spesso e volentieri, soprattutto se è trovato a gestire da solo senza la condivisione del collegio di direzione, che è appunto questa funzione all'interno proprio dell'atto aziendale. Noi non siamo soltanto per ratificare, ma siamo lì anche per collaborare affinché migliori la sanità lucana. Questa è solo una strumentalizzazione mediatica. L'intramenia è una risorsa. Qualsiasi grande azienda, confrontatevi con l'esterno, vedete i Gemelli di Roma, vedete San Raffaele di Milano, hanno strutture dedicate all'intramenia. I medici che sono attrattivi, che fanno intramenia, portano denaro all'interno dell'azienda e della regione, perché fanno mobilità attiva. L'intramenia è una risorsa. Il detettore generale ha applicato quello che è il nuovo piano generale sulle liste d'attesa, temporaneamente. Attualmente la nostra discussione è molto aperta, ma credetemi, l'intramenia non è la causa delle liste d'attesa. Sospendere l'intramenia, come è facile strumentalizzarlo dal punto di vista mediatico, è soltanto demagogico. Non serve a nessuno. Il direttore Baresi era presente all'incontro, ma perché è invitato non ha partecipato effettivamente. Tra di voi, tra i medici e il direttore c'è qualche difficoltà di dialogo. Quando è importante che l'assessore Leone faccia da garante per questa riapertura delle discussioni? Questo incontro di oggi è stato finalizzato a questo, affinché nel dialogo, nelle sedi opportune, noi possiamo discutere e approfondire questi temi. Sarà lui a fare da tramite nei rapporti con il direttore oppure riuscire... Le persone serie e leali non c'è bisogno, sarà soltanto riferito quello che noi continueremo a fare nei prossimi giorni al fine di migliorare i nostri rapporti. Grazie. Grazie.